Buongiorno a tutti, mi ero un po' spazzato perché non ero pronto ad introdurre questo incontro seppur informale, un po' anzi abbastanza stampo 5 Stelle, siamo a Maria di Cattanova e noi devi farlo forse solo per la stampa e ci troviamo con i candidati alle prossime politiche del Movimento 5 Stelle. Io farei subito il venuto di casa al consigliere comunale di Camarotto Sessa Turma per poi lasciare la parola al vice sindaco di Camarotto Francesco Caricchio Logicamente qui davanti a qui c'è Alessandro Alessandro che si candidata all'unnominale della Camera dei Deputati e Franco Castiello che invece si candidata al Senato sempre nel collegio Alcurni, Cilento e Vallo di Viano Lascio la parola a Sessa Turma Buongiorno, buongiorno a tutti, anche io sarò molto molto breve perché non è il mio forte sono contento di essere qua stamattina, sono contento di tutti quelli che nel nome delle persone che sono venuti sono contento di avere una caratteristica, di avere il dottor Francesco e niente, ho poco da dire tutti sanno i paesi che comunque mi sono sempre manifestato io l'ho fatto fortemente ho avvenuto perché era il progetto che abbiamo portato avanti che ci ha portato ad essere oggi in amministrazione con le idee e le prerogative del Movimento 5 Stelle sono felice per il fatto che il sindaco non è stato una persona che ha sempre avvalorato il centrodestra, giusto? dice sì ha sempre avvalorato il centrodestra alla fine si è arrivato a ad abbracciare il Movimento e dargli forza in questa avventura sono contento anche della presenza di Sana una persona particolarmente sensibile e non a caso all'interno dell'attivazione un ruolo particolarmente sensibile non mi ricordo a a a a salve buongiorno a tutti l'uomo sei ha detto ho detto una verità gli ultimi venti anni sono stato un elettore di centrodestra oggi ho scelto di partecipare e cambiare per un motivo molto semplice è una scelta che ho maturato da un mese più o meno a questa parte ho visto un po' ripercorrendo anche un po' la campagna elettorale ho visto un po' quei video, quelle proposte elettorali che erano dei messaggi già sentiti nel corso delle ultime campagne elettorali e che venivano riproposti da persone diverse o dagli stessi candidati che già in qualche modo avevano fallito negli anni addirittura e che oggi però ci chiedono nuovamente la fiducia il cittadino ha un limite siamo portati a ricordare quello che magari abbiamo mangiato ieri e ci viene più difficile ricordare quello che abbiamo mangiato l'altro ieri e invece il nostro compito è quello proprio di far presente che l'offerta che oggi ci offre il centro-sinistra che è l'ultimo partito che è stato al governo nazionale e l'offerta che ci ripropone il centro-destra che comunque si è alternato in questi venti anni alla conduzione del paese è un'offerta che abbiamo già vista e purtroppo non ha risolti i problemi dell'Italia io sento parlare di flat tax se ne scuse tanto mi è capitato anche con amici di discuterne e tanti si legano alla speranza partendo da un'idea di base che non è possibile migliorare il paese allora si ci lega alla speranza di quantomeno di pagare di meno se abbatterono le aliquote al 23 o al 15% ancora non si è capito bene quale sia la aliquota fissa da applicare quantomeno paghiamo meno tasso però mi sarebbe piaciuto magari poi l'avvocato Castillo ci farà una disamina ampia sulla problematica mi sarebbe piaciuto che qualche giornalista avesse posto questa domanda all'ex premier che cioè se questa idea di proporre una tassazione fissa al 23 o al 15% che sia sia una legge costituzionale perché noi sappiamo bene che l'articolo 53 della Costituzione al secondo comma ci impone il principio della progressività che in pratica per spiegarlo in parole povere ci dice che se io guadagno più di un'altra persona è giusto che contribuisca di più pagando più tasse rispetto a chi è più povero di me imponendo una aliquota fissa questo chiaramente non è possibile quindi ci potremmo trovare all'assurdo che il Parlamento approvi una legge che il giorno dopo verrà poi dichiarata incostituzionale dalla Porta Costituzionale quindi io credo che anche su questo avvocato Tomo se facciamo di passaggio che tanta gente si intrude di questa cosa che poi nei fatti non potrà essere realizzata mi convince invece molto di più la proposta fiscale del Movimento 5 Stelle a battere sì la pressione fiscale riconoscendo magari un'esenzione a chi guadagna fino a 10.000 euro in esenzione totale aiutare le piccole imprese con l'abbattimento del cumulo fiscale dell'Ira cioè proposte concrete che aiutano realmente le persone e di fatto ci danno opportunità in più di spettare qualcosa in più sul mercato mi trovo ad ascoltare tante volte delle discussioni noi viviamo in un piccolo centro dove magari c'è anche assenza di lavoro tanti si legano a un lavoro estivo di 2-3 mesi per poi pigliare la disoccupazione nel periodo invernale ma quale migliore ricetta del reddito di cittadinanza? che non significa regalare i soldi a una faccenda a chi non vuole fare e quindi sperperare denaro pubblico significa dare dignità alla persona significa dare dignità al lavoratore e a chi ha perso il lavoro assicurando un contributo economico di 780 euro al mese e mettendo il singolo lavoratore la singola persona disoccupata a stretto contatto con il centro per l'impiego perché poi se ci si rifiuta di andare a lavorare quando si crea un'opportunità è giusto che quella persona perda il contributo economico ricevuto dallo Stato io credo che queste siano delle cose concrete ho sentito tanta concretezza anche sul discorso di migrazione che è un po' il cavallo di battaglia anche dell'America Nord sento parlare dello scandalo sull'immigrazione del business che si è creato sull'immigrazione dei famosi 37 euro di rimborso che vengono dati a chi magari si fa carico di dare un pasto di dare un pernottamento alle strutture ricettive che si fanno carico di queste cose e quindi si dà colpo al centro di sinistra ci si dimentica però che al tempo stesso qualche anno prima lo stesso centrodestra aveva applicato la stessa ricetta con un contributo economico che non era di 37 euro bensì si avvicinava ai 50 quindi con un aggravio di costi maggiori per lo Stato dei 5 Stelle sento in merito una proposta seria stop al business dell'immigrazione e come si fa? garantendo il rientro di tutti quegli immigrati irregolari che stanno sul territorio nazionale andando a rafforzare le commissioni territoriali che dovranno in un tempo ristretto nel programma mi sembra si è indicato un mese verificare le condizioni singole del liquidirato e vedere se ha diritto o meno a stare in Italia andando magari anche a ritrattare i vari trattati con i paesi che dovranno poi riceverli nuovamente queste sono proposte concrete quando le proposte concrete vengono da persone serie da persone che si sono messe in prima linea per combattere il clientelismo che hanno rinunciato con atti concreti anche magari a gran parte dei loro stipendi a beneficio della collettività io credo che sia giusto dare un'opportunità a queste persone perché in quel modo noi non stiamo dando un'opportunità a Francesco Castiello stiamo dando un'opportunità alla nostra generazione e a quelle che verranno cos'altro dirvi? dirvi che non c'è neppure l'incompetenza Alessia D'Alessandro è giovanissima ma sappiamo tutti la sua storia come tanti di noi è dovuta emigrare per poter fare un percorso di studio importante è andato all'estero ha assunto lì ha conseguito lì la laurea poi ha cominciato anche a lavorare con un organo di prestigio Francesco Castiello per me è un mito plurilaureato primo avvocato della Bancat Italia dirigente consigliere tar docente universitario ha pubblicato vari libri in materia giuridica io non mi dilungo più passo una parola a loro e che avranno tanto da dirci grazie Buongiorno a tutti faccio solo un saluto io sono Pietro Miraldi consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Vado dell'Ucania in questa fase delle elezioni al Parlamento e alla Camera ho l'onere e onore di accompagnare Alessia D'Alessandro dell'Avvocato Castillo in giro per il territorio sia del Collegio di Parti Pagli o del Senato che per la Camera di Acopoli per quanto riguarda la pressione noi siamo convinti che stiamo facendo un ottimo lavoro ottimo lavoro che si tratta anche negli ultimi anni al Parlamento dai portavoce che abbiamo avuto sia la Camera che era il Parlamento e da tantissime belle cose che il Movimento 5 Stelle sta attuando dall'idea del reddito di cittadinanza come ha detto già il Vice Sindaco al problema sul problema sull'immigrazione e a come si vogliono risolvere tantissimi problemi anche con con l'abolizione della legge Fornero e perché deve andare in pensione e non può avere una pensione che è interiore a quella che è la soglia di povertà che è 780 euro io sono convinto che avremo un ottimo risultato bene di sera vi invito tutti a ballo perché diamo un atto di forza e saremo tutti quando è al teatro al teatro della Providenza di Vallo dell'Europania che è un teatro che ospita ben 100% persone è sicuramente un rischio che verrà una bella scommessa perché dobbiamo dimostrare che siamo tutti quanti vicini a chi un domani ci amministrerà a Pocato Cassiello e a Nessa D'Alessandro e dobbiamo far vedere che siamo una cosa del territorio chi come a Fieri dice che lui conosce il territorio non sa che non si ganti da per amministrare Tocchiare o a Robli ma si ganti da per regiferare tutti chiedono il Parlamento a fare questo noi conosciamo il territorio e siamo a conoscenza ahimè che anche per girarlo vediamo che sono tantissime difficoltà perché abbiamo delle strade che sono ridotte proprio al minimo i treni che non fermano abbiamo una sanità che non funziona abbiamo una giustizia che non funziona speriamo che un momento 5 stelle non possiamo promettere niente però ci metteremo sicuramente un senso civico e una buona diligenza passo la parola ad Alesse grazie a chi ci ha ospitato grazie a Alesse grazie 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 innanzitutto ringrazio per l'accoglienza e questo ben di Dio citavo che dire siamo nell'ultima settimana al voto e diciamo che la cosa che un po' mi diverte è come vedere che magari gli altri partiti o il nostro avversario politico cercano in tutti i mori di trovare qualcosa per attaccarci ma in realtà non hanno non hanno trovato nessun punto di attacco perché noi come il momento 5 stelle abbiamo dimostrato di avere un altro un altro valore etico e morale ed in più siamo siamo tutte persone candidabili persone che possono presentarsi sulle strade senza avere l'esigenza di magari tenere gli incontri solo con certi cedi di persone perché portano troppi scheletri nell'armario quando ci accusavano di essere poco competenti in realtà è riuscito due giorni fa un articolo molto interessante sull'Espresso dove dicevano che il momento 5 stelle è la forza politica con il più alto numero di laureati e quando ci davano come forza senza 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 un senza una prospettiva in realtà abbiamo dimostrato di essere diventati la prima forza politica in Italia questo non non perché non perché la gente non ci prende sul serio ma perché abbiamo dimostrato delle qualità abbiamo dimostrato di avere dei punti molto validi e soprattutto proponiamo agli italiani per far sì che appunto la qualità di vita dei cittadini vada a migliorarsi noi siamo qui per presentarvi alcuni dei 20 punti del nostro programma che appunto è un programma che mette al centro dell'interesse la qualità di vita del cittadino e infatti come venivano alcune misure molto importanti come quelle del retto di cittadinanza e come quelle del rilascio della piccola e maglia in presa che sono fondamentali soprattutto anche per i nostri territori io mi sono iscritta alla piattaforma russo nel gennaio 2017 quando il movimento ha chiarito la sua posizione anche riguardo all'Europa perché io sono una cittadina italo-tedesca sono nata e cresciuta in Italia e sono dovuta scappare un po' dall'Italia all'età di 18 anni quando ho conseguito la maturità per un futuro meritocratico all'estero ho frequentato alcune delle migliori scuole in Europa sono stata anche a Parigi e ho conseguito la laurea in economia aziendale e con la specializzazione in pubblica amministrazione la cosa che mi fa che mi fa rabbia è vedere come persone che ormai non so cosa attaccarsi in realtà cercano in tutti i modi di trovare qualcosa quindi ad esempio la cosa che più spesso mi viene fatta in queste settimane è la possibilità di non essere radicata sul territorio io in realtà sono stata se vogliamo dire la cosa di vittima di questa malamministrazione di questa politica che non ha potuto offrirmi quello che in effetti cercavo perché per me valori come non è sta la competenza senza andare a chiedere i favori sono appunto qualità fondamentali ho sempre mi sono sempre costruita nel mio percorso da sola con le mie forze riboccandovi le maniche magari sempre scegliendo la strada più dura se essere radicati sul territorio significa ricoprire un ruolo quasi egemole concentrare il potere nelle mani di una persona che poi ha anche la possibilità di mettere mogli parenti nipoti e figli a ricoprire le incariche della pubblica amministrazione e poi non sanno neanche bene amministrare allora in quel caso non mi sento radicata se essere radicati invece significa avere quell'apertura mentale creare una squadra che appunto non solo conosca a fondo le costrui del territorio ma che soprattutto abbia l'interesse e non abbia le mani legate per lanciare progetti che in realtà veramente vadano a cambiare la situazione nel nostro occidente nel Vallo di Viano e nel Torni la realtà è che io quando torno a casa ogni volta devo riscontrare la realtà che esisterà sempre abbiamo le strade che non collegano abbiamo la sanità che non ti assiste abbiamo i treni che non arrivano neanche in questi luoghi e pensate che non esiste neanche un piano turistico per i nostri per i nostri luoghi in realtà si è sempre cercato di fare di creare una politica di sottoprima luci e ti contentino perché perché in realtà viviamo in una situazione di mediocrità e di disperazione molti cittadini l'hanno capito infatti abbiamo durato molto in questi giorni io insieme all'avvocato Castiello e mi sono dovuta rendere conto che molta gente ormai veramente stufa ha capito che le promesse che vengono fatti nei periodi pre-elettorali poi non vengono neanche mantenuti e in realtà c'è ben poco da promettere oggigiorno perché le risorse non ci sono più quindi sono contenta di vedere che molta gente ha capito che l'unica possibilità di cambiamento l'unica possibilità di riscatto è appunto quella di scegliere da che parte schierarsi continuare a schierarsi da coloro che sanno fare la clientela come Dio comanda quelli che sanno fare il voto di scambio e le frutture di pesce oppure scegliere coloro che non hanno le mani legate che non hanno un interesse personale perché di politica non ne hanno fatta io mi definisco sempre una cittadina che ha studiato e ha conosciuto i problemi dei nostri luoghi però ho anche avuto questa unica opportunità di andare all'estero di aprirmi la mente e di conoscere anche altre realtà e di imparare da altri modelli e magari applicare questi modelli proprio anche come vitale e contenzializzarli per i nostri territori abbiamo un potenziale grandissimo in realtà mi fa male vedere come questi territori siano deturpati da un turismo che funziona solo per l'idea e l'anno quando in realtà potrebbe esserci il discorso di destagionalizzazione noi abbiamo non solo luoghi e territori bellissimi con paesaggi unici al mondo ma abbiamo molto di più da offrire abbiamo prodotti unici non solo dal punto di vista gastronomico ma anche a livello culturale siamo invidiati in tutto il mondo per le bellezze che abbiamo e se non si riuscirà a creare questo piano turistico un piano concreto allora non ci sarà mai un discorso di crescita economica di rilancio economico per poi veramente far valorizzare questi luoghi e magari diventare anche famosi come la costiera amalfitana che tutti quanti conoscono mentre la costiera celentana diciamoci la vita nessuno la conosce sono due i punti su cui vorrei soffermarmi che non mezzo 5 stelle propone sul livello nazionale il primo è appunto il reddito di cittadinanza che è un reddito di dignità ed è una manovra economica non una misura assistenziale che già funziona in molte economie europee ad esempio in Germania questa misura già esisterà tantissimi anni in realtà cosa prevede questo reddito di cittadinanza? prevede l'investimento di 17 miliardi di cui 15 miliardi appunto destinati alla sola manovra economica per rilanciare questa misura e 2 miliardi invece appunto che saranno investiti per i centri dell'impiego per fare in modo che appunto ci sia di nuovo un incontro fra la domanda e l'offerta del lavoro che oggigiorno non c'è pensate che in Italia per i servizi dell'impiego il personale all'interno dei servizi dell'impiego se qui una persona deve occuparsi del rinserimento nel mondo del lavoro di 500 persone in Germania la percentuale è di 1 su 1 per 20 ossia una persona che segue il rinserimento di 20 persone nel mondo del lavoro è per questo che le tempistiche sono più veloci ed è per questo anche che le persone riescono a trovare professioni che più si addicono anche al loro profilo a quello che hanno studiato o non hanno studiato e questo appunto va a creare poi quel discorso di crescita occupazionale crescita economica e crescita anche di qualità di vita del cittadino in questi luoghi abbiamo la piccola e media impresa che è un puntore non solo di questi posti ma anche dell'economia italiana e noi per questo vogliamo fare in modo che l'interesse della piccola e media impresa torni al centro dell'attenzione che sempre più si è vista tagliata si è vista mancare anche le possibilità di finanziamento soprattutto con il divulgarsi della crisi economica del 2008 2009 in realtà che cosa vogliamo fare tre cose la prima è la produzione dell'ira quindi alleggerire il primo fiscale secondo vogliamo alleggerire l'apparato burocratico che opprime le piccole e medie imprese e non le rende competitive perché i tempi sono lunghissime e si prevedono le costi di circa 8 mila euro l'anno solo per l'apparato burocratico e lì infine vogliamo istituire questa banca pubblica di investimento per far sì che siano gli interessi della piccola e media impresa della famiglia e degli agricoltori quelli che veramente vengono messi a cittura dell'attenzione e non quelli della banca di finanziamento e del mondo finanziario ma dell'economia reale diciamo che scelta di votare il Movimento 5 Stelle non significa darci il voto solo perché abbiamo un bel programma votarci significa soprattutto votare le persone che rappresentano il Movimento e siamo stati veramente in questa campagna elettorale è stato palese che siamo l'unico movimento da avere persone incensurate persone che possono presentarsi buco persone che non avere contande penali persone che possono appunto dare quella credibilità al governo che tanto manca non dimentichiamoci che sia i governi di centrodestra che di centrosinistra sono stati responsabili non solo per il crollo dell'Italia dal punto di vista economico ma che abbiamo perso anche la nostra dignità in realtà perché perché ai tavoli europei l'Italia è sempre l'ultima a avere qualcosa da dire anzi non può dire proprio più niente abbiamo avuto un signore di 81 anni che non dimentichiamoci ci ha ridicolizzati non solo per appunto creare il crollo dell'Italia dove lo spredde il salito alle stelle ma soprattutto anche per le questioni dei suoi affari privati che poi li ha fatti entrare nella politica e questa è una cosa che ci ha fatto vergognare sentire sui quotidiani che si parlava solo di peste bunga bunga e poi era proprio il periodo in cui io stavo scrivendo la mia tesi di laurea appunto sulle politiche di austerità come avendo ordinato l'Italia veramente mi feriva perché in realtà vedendo che anche i stessi quotidiani ridicolizzavano le immagini dell'Italia perché come è possibile che parliamo di politica però poi parliamo di affari di gossip in realtà voglio concludere il mio discorso facendo un appello che è l'appello al voto perché proprio visto che stiamo agli ultimi giorni di campagna elettorale il voto sarà brevissimo purtroppo c'è ancora una gran fetta di persone che è il partito degli indecisi che ancora non sa chi votare o che magari si esterrà al voto proprio perché si servono schifati da questa politica da questa classe dirigente che per anni si è presa a gioco di noi voglio invitare una riflessione e non il voto è per sempre un voto e magari sarà un voto proprio per quei cetti politici che i loro pacchetti di voto già ce l'hanno e magari proprio per quei partiti che meno vogliamo che ci rappresentino noi abbiamo questa possibilità oggi quella di far sentire la nostra voce è molto più apprezzato fare una scelta schierarsi da una parte piuttosto che non schierarsi da nessuna parte perché come detto quando il cittadino rinuncia al voto in realtà rinuncia non solo a un suo diritto ma anche a un suo dovere rinunciare al voto appunto è proprio quello che magari gli altri cetti politici vogliono perché come detto loro i pacchetti di voto già ce l'hanno e se noi ci esteniamo in realtà sarà per loro più facile poi raggiungere un'eventuale maggioranza però diciamo che lo scenario adesso non sarà quello perché abbiamo visto che né centrosinistra né centrodestra riusciranno ad avere i numeri per fare una una grande coalizione si dovrà per sempre passare per il movimento 5 stelle e quindi mi raccomando cercate di informare tutte le persone che non vogliono votare alla gravità del non voto all'importanza soprattutto del voto per il cambiamento non solo della nostra generazione ma anche per fare in modo che le generazioni future abbiano una chance più in Italia vi invito nuovamente tutti quanti venerdì alle 18.30 presso il Cineteatro La Providenza di Vallo della Lucania per appunto concludere in bellezza questa campagna elettorale io e l'avvocato Castielo saremo lì e spero di vederli numerosi in maniera che possiamo celebrare la chiusura di questa campagna elettorale che è stata tanto faticosa ma allo stesso tempo bellissima quindi cercate di venire e ci farebbe molto piacere grazie la parola e mi ringrazio per averci dedicato una parte del vostro tempo mi ricorrego subito per entrare nel cuore degli argomenti a quello che diceva il nostro preparatissimo è chiaro vice sindaco c'è un'espressione sulla quale dobbiamo riflettere l'attuale ministro Calenda ministro dell'industria ha proposto di istituire per questa campagna elettorale una tassa sulle sciocchezze cioè chi più dice sciocchezze dovrebbe essere tassato e tassato in proporzione con il reddito verrebbero riservati italiani credono che credono a queste sciocchezze e che sono parte l'esa allora posto che io condivido perfettamente la proposta del ministro Calenda di istituire la tassa sulle sciocchezze vi dico che se effettivamente dovesse andare avanti una proposta di questo tipo io credo che a Berlusconi esproprierebbero per tasse tutto il patrimonio riducendo i miseria perché dici certe sciocchezze ma certe sciocchezze che sono credetemi ancora più alte della piramide di Caiope e vi spiego perché la prima è la frattata la quale è stato fatto riferimento dice Berlusconi io farò in modo che pagherete tutti la stessa tassa prima ha detto il 15% poi 23% ma comunque tutti la stessa tassa allora faccio un esempio immaginiamo che Pietro Meraldi guadagna 10.000 euro l'anno e Francesco Castillo guadagna 100.000 euro l'anno se tutte e due paghiamo il 15% come dice Berlusconi a Pietro Miraldi rimarranno 8.500 euro e a Francesco Castillo 85.000 euro che significa che Pietro Miraldi dovrà andare a mangiare la Caritas perché 8.500 euro l'anno si fa mangiare la Caritas Francesco Castillo con 85.000 euro l'anno vive quasi dalla babbo vedete l'assurdità di pensare di livellare con la stessa liquota due posizioni nettamente differenziate e già chi ne avrebbe grandissima enorme vantaggio sarebbe l'imperto di Berlusconi perché attualmente paga il 43% d'aliquota che è l'aliquota massima dell'IRPEF se la auto discende al 15% pagherà un verzo delle tasse che attualmente paga vedete che sciocchezza questa affermazione palurda si scontra poi come accennava il collega in modo frontale con l'articolo 53 secondo comma della Costituzione che afferma con norma categorica e lapidaria che il sistema fiscale è in formato ai criteri di progressività significa che chi è più ricco deve pagare più tasse chi è meno ricco deve pagare di meno perché la nostra Costituzione è a sfondo solidaristico e redistributivo c'è un altro articolo importantissimo che in questa campagna elettorale nessuno ha menzionato questo la dice l'Una anche sul livello piuttosto mediocre dei candidati come livelli di conoscenze giuridiche e dei problemi l'articolo 3 il principio di eguaglianza dei cittadini se io tratto due situazioni diametralmente diverse con lo stesso criterio io faccio un'eguaglianza dei diseguati e quindi violo il principio di eguaglianza giuridica di quello articolo 3 allora la flat tax di Berlusconi premesso che è una proprio turlupinatura premesso che è impossibile da realizzare essa è categoricamente avversata dagli articoli 3 e 53 della Costituzione ammesso che Berlusconi vince in sedione quarti perché sarebbe l'ultima da riusciare pure per l'Italia e ammesso che presentasse una legge simile la Corte Costituzionale immediatamente ne spezza le gambe perché è una legge incostituzionale questo lo dovete dire a tutti quei quei merdi che ancora stanno a credere a Berlusconi Berlusconi sembra un uccellatore che sotto una pianta conciun fuoco come diciamo noi cilettani se la fischia e se la canta e i merditi si posano sull'albero per farsi sparare da loro imballinare da loro attenzione dite a tutti i grandi amici e conoscenti non fatevi turlupinare da Berlusconi perché la flat tax serve soltanto a ridurre a un terzo le tasse che lui paga personalmente sui inverno finanziamenti e rende sempre più ricchi ricchi e sempre più povere di poveri detto questo vengo ad un argomento che ci tocca più da vicino la città del 15 febbraio scorso ha pubblicato due notizie che riguardano proprio Camerota allora la prima notizia quando l'ho letta mi hanno riconato come ci l'hanno ha fatto un grande piacere a carattere di cubità forte ripresa del turismo baneare più 50% delle prenotazioni rispetto all'anno 2016 mete preferite Camerota e Pavinua sottodicono gli albergatori si quest'anno apriranno con un largo anticipo perché visto che c'è un boom di prenotazioni la notizia non può che far piacere quindi si destagionalizza la presenza turistica sul territorio si allargano i periodi a maggio già cominceranno a funzionare gli stabilimenti baneare magari con turisti tedeschi e quant'altro quindi andiamo fortunatamente a una vigorosa ripresa del turismo baneare la notizia non può che farci felici anche perché in questo modo si crea occupazione evidentemente abbiamo in questa regione il 50% dei giovani disoccupati tutto ciò che condurre a riasservire la disoccupazione giovanile non può che farci felici ma all'altra pagina del giornale c'era scritto questo su superstrada cilandana ridotta in condizione di essere una mulattiera frane a futane frane sulla strada e frane sul tratto valo della urgania a cerazio e allora vedete le due notizie si contraddivano perché dalla parte ci si aspetta il 50% più dei turisti e dall'altra parte abbiamo l'unica partenia che collega il cilento nord con il cilento sud in condizioni proprio devastate e allora qui c'è qualche cosa che veramente non va e non è accettabile abbiamo come candidati nelle liste opposte alla nostra formazione politica gente come i cirielli come i annule che sono stati i presidenti della provincia cui spettava la manutenzione della superstrada cilentale l'hanno tenuta a quattro anni chiusa all'altezza di Agropoli e ora in condizioni di frane continue per mancanza di manutenzione e hanno la faccia tosta di presentarsi alle elezioni di chiedere il voto e quello che fa dispiacere che ci sono ancora dalle parti nostre nel basso cilento cittadini che vanno a dare il voto a questi furfanti che hanno rovinato l'economia delle nostre regioni è veramente penoso penoso che si vada ancora a votare per queste persone se poi guardiamo a che cosa è successo nella sanità vedete io ho un collegio vastissimo che il mio collegio senatoriale prende pensate da battipaglia e finisce a sala consiglina 600 mila abitanti eh tanto è vero che ho esaurito comunitamente la voce come potete constatare perché ho parlato con gentinaia migliaia di persone tutti tutti mi hanno detto che le condizioni della sanità in questa ampia area della provincia di Salerno sono in uno stato penoso proprio battipaglia vanno della Lucana polla sapri agropomi una sanità in ginocchio una sanità per la quale la nostra regione spende la più parte delle risorse di bilancio spende quasi 4 quindi delle risorse di bilancio noi dovremmo aspettarci di fronte a questi investimenti una sanità di eccellenza e invece abbiamo il tasso migratorio sanitario più alto di tutte le regioni meridionali i campani sono costretti ad andarsi a fare un luogo nelle strutture sanitarie delle regioni del nord la prima è la lombardia e segue le virie romagna e la toscana con un deficit di bilancio per la migrazione sanitaria di 280 milioni l'anno da parte della regione campagna che andiamo a versare alla lombardia e alle virie romagna in particolare vedete che assurdo la regione che più spende nella sanità con le prestazioni sanitarie meno buone pessime a volte e con il più alto tasso di migrazione sanitaria un'autentica vergogna un'autentica vergogna gli ultimi due o tre episodi delle scorse settimane sono eloquenti ad Orria un poveretto a 60 anni si prende l'infarto con l'ambulanza lo portano al presidio ospedaliero di Vallo della Lucania all'ospedale San Luca gli devono fare la cronografia non gliela possono fare perché il medico dell'emodinamica aveva finito il turno e non c'era chi faceva le sei ore successive dopodiché l'hanno dovuto rimettere sull'ambulanza e mandare a cala dei terreni e rendete conto c'era quasi cento chilometri di distanza un altro episodio tutti tratti dalla cronaca degli ultimi dieci giorni io cito dei giornali dalla stampa quotidiana degli ultimi dieci giorni un vecchio dirofran 82enne affetto da sordità totale lo portano a sapi lo girano lo portano una propria volta che c'è dove danno ravaglio lo mettono sull'ambulanza o portano ravaglio avagono girano portano i morti e dicono qua le protesi non le abbiamo tornate dopo il primo settembre 2018 e l'hanno restituite a casa ma questa è una situazione è una situazione appena allora noi ci dobbiamo chiedere perché ci siamo ridotti con una sanità costosissima e dai risultati squallidi perché dall'ultimo portantino al direttore generale sono nominati attraverso sistemi clientelari di affiliazione politica parliamoci chiaro non vale il merito non vale la bravura non vale la professionalità vale l'essere legato a questo o a quel politico a questo o a quel carro politico ma quando la politica entra nella sanità distrugge la sanità distrugge la sanità la costituzione all'articolo 32 definisce il diritto alla salute diritto fondamentale del cittadino e interesse primario della collettività pensate la costituzione non usa mai il termine fondamentale quando parla degli altri diritti diritto di proprietà diritto di impresa diritto di libertà di pensiero sono diritti importantissimi del cittadino non usa mai l'aggettivo fondamentale lo usa con riferimento alla salute il primario dei diritti ebbene il primario valore diritto del cittadino il valore della società è campestato è ridotto ai minimi termini in questa regione nella provincia di Salerno voi vedete ad Agropoli dove risiede il ras locale alfieri l'ospedale l'ospedale sapete che cos'è? un grande caseccia dove quando passate sulla superstrada o di quel che rimane nella superstrada lo vedete anche l'edificio moderno e i centri sapete che cosa c'è dentro il nulla non c'è niente mi dicono che hanno persino disattivato il pronto soccorso almeno c'era quello che faceva un po' da smistamento hanno disattivato persino il pronto soccorso intanto questo signore viene qui è con una campagna elettorale fastosa i giornalisti ad Agropoli mi hanno intervistato mi hanno detto dice senda alfieri ha detto a noi giornalisti che è impegnato per la campagna elettorale solo per gli inizi 200.000 euro dice lei quando è impegnato io ho risposto 200 euro il caffè per gli amici perché il Movimento 5 Stelle è l'unica formazione politica che ha rifiutato i soldi dello Stato come rimorso elettorale quindi ha rinunciato a 42 milioni di euro che gli spettavano come rimorso elettorale soldi che si è preso alfieri tutti gli altri spinelli tutti gli altri e quindi fanno campagne elettorali costosissime con i soldi dello Stato con i soldi dei contribuenti con i soldi vostri noi invece stiamo facendo una modesta campagna elettorale artigianale fondata solo sulle nostre personali modeste disposto io non sono riuscito a mettere neanche un manifesto in tutti i 98 paesi in tutte le 98 città del mio collegio elettorale da sala consiglina a bativano e me ne mando perché non vonda tanto il manifesto votate Alessia D'Aversandro o votate Francesco Castiero questa è esteriorità non abbiamo bisogno di questo noi diciamo ai cittadini votate per chi ha il casellario giudiziario e i carichi pendenti puliti e immacolati noi non abbiamo scheletri negli armadi alle nostre spalle noi non ci siamo avvarsi della prescrizione per non andare a finire in galera noi abbiamo le mani puite l'onestà mentale e siamo coloro i quali fanno una politica basata non sulle esteriorità ma sui valori delle nostre idee noi siamo l'unica alternativa politica vedete non a caso noi non ci abbiamo partito 5 stelle noi ci chiamiamo movimento 5 stelle c'è una bella differenza tra movimento e partito partito evoca una struttura una struttura clientelare un apparato costoso un apparato che succia allo Stato e ai contribuenti milioni e milioni di euro per il finanziamento dei partiti noi siamo un movimento cioè un insieme di idee che si autofinanzia noi ci autofinanziamo sapete come abbiamo finanziato questa campagna elettorale siamo andati a mangiare una pizza Paolo doveva eravamo veramente molte decine di persone e abbiamo pagato 15 euro ognuno di noi una pizza è una pizza e il ristoratore si è preso la metà e l'altra metà li abbiamo messi in una cassa rocure con cui abbiamo autofinanziato la campagna elettorale questo abbiamo fatto noi non abbiamo chiesto soldi allo Stato e ai consigli li abbiamo rifiutati e lo stipendio dei parlamentari 5 stelle gli unici per la metà vanno in un mondo con il quale vengono concessi aiuti alle piccole imprese in difficoltà artigiani commerciali in difficoltà per questa gravissima recessione economica questa gravissima crisi che accerna a finire ma non è vero che sia finita come ci contrabandano se voi vedete per televisione il ministro Padovan oppure Gedeone che sembrano due portatori sani di malinconia e così li definiscono a me la mettono tristezza a vedere i quali dicono ah siamo usciti dalla crisi finalmente ma che cosa siamo usciti dalla crisi ma voi lo sapete che allora riflettiamo sui lunghi perché io l'economia l'ho studiata e l'ho studiata seriamente io sono documentato non vengono a dire sciocchezze allora gli altri paesi d'Europa hanno un incremento di PIL del 2,4 2,5 2,7 per cento noi siamo a 1,4 mi dite perché c'è questa forte differenza perché da un PIL l'ho mandato solo a metà c'è la risposta perché è ancora in crisi l'edilizia in Italia l'edilizia è in ginocchio l'edilizia non è uscita dalla crisi la differenza tra quel modestissimo 1,4 italiano e 2,7 degli altri paesi la fa l'edilizia l'edilizia ha perduto 900.000 occupate in questo periodo di recessione e quando si ferma l'edilizia è l'unica industria che ha 18 indotti perché da l'edilizia dipende elettricità idraulica laterizi fare gnaveria dipende tutto e noi che cosa abbiamo nel sud? abbiamo l'estate un po' di turismo e poi abbiamo l'edilizia non abbiamo nulla più se si ferma l'edilizia si ferma l'economia dell'Italia meridionale quindi che cosa vi vengono a dire che siamo in ripresa ripresa di che cosa? con un'edilizia che non riparte con un'edilizia ferma e 18 attività indotte ferme anche esse per i riflessi negativi della stasi dell'edilizia quindi sono tutte sciocchezze che ci hanno aspettate perché poi non dico perché dicono ah ma noi adesso che siamo in ripresa non siamo mai lì con i 5 stelle e quelli sono revoltosi rivoluzionari metteranno disordine nei conti ma non dicessero pancacciate non dicessero stupidacci qua l'unico che metterà veramente disordine nei conti sarà Berlusconi perché deve alimentare il suo invero finanziario e quindi pensa alla riduzione delle tasse funzionale al suo invero finanziario poi c'è pure il problema di pagare cichate finanziare lì tutti i palazzi dove abitano le oggettine voi sapete tutti i palazzi c'è un appartamento per ogni oggettino dove praticamente il ragioniere Spinelli che è il grande tesoriere paga condominio riscaldamento gas luce telefoni e gli dà proprio 2.500 euro al mese di appannaggio tutte queste spese chiaramente richiedono una diminuzione delle tasse ecco perché dobbiamo fare una fatta tax questa è la verità e veniamo a un altro argomento che pure riguarda noi altri una città agricoltura e uno al parco agricoltura siamo la regione che restituisce all'Europa la più parte dei finanziamenti europei comunitari non utilizzati questo è un delitto sociale perché con una percentuale di giovani disoccupati del 50% lasciare l'agricoltura in ginocchio senza potersi acquaire delle risorse comunitari è veramente qualcosa di disastroso dal punto di vista economico e di veramente tutt'altro che comandevole dal punto di vista morale restituiamo restituiamo all'Europa la più parte dei finanziamenti comunitari che questa regione non riesce ad andare all'alleggore veniamo un attimo al parco il parco ha rappresentato per noi cilentari una grandissima delusione quando lo si istituì tutti speravamo che col parco avremmo avuto grandi vantaggi di promozione del cilento dell'immagine del cilento di vivificazione della nostra economia di accentuazione incrementazione delle presenze turistiche sul territorio non abbiamo avuto nulla di tutto questo abbiamo avuto tutti i vingoli l'acce e l'acce non si può costruire non si può raccogliere le vigne non si possono raccogliere i fuggi tutto no 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 e non abbiamo avuto nulla di valercioso o ben poco di valercioso vi basta dire che per quanto riguarda le costruzioni questa è una cosa che sta a cuore tantissima se non si ha la qualifica di operatore agricolo professionale non è possibile ricostruire neanche se uno ha una casetta in campagna a parità di volumetria e a parità di superficie io non è che vengo demagogicamente a dire li penalizziamo tutto così che uno che c'è 100 metri quadri la fa in 500 fa speculazione all'interno del parco me ne guardo bene dal giurista di dire giochezze sì io dico un'altra cosa se tu hai una casetta di 100 metri quadri ed è caduto il tetto ma perché non la puoi restaurare la puoi restaurare solamente chi è operatore professionale agricolo chi non è operatore professionale agricolo la deve lasciare cadere completamente e non la puoi ricostruire non la puoi restaurare questa è un'assurdità quindi va modificata questa normativa vingovistica la quale poi tra l'altro è completamente antitetica all'obiettivo di favorire la cosiddetta ospitalità diffusa sul paprik l'ospitalità diffusa consiste nel fatto che se io ho una casetta con i grismi della tipologia dell'architettura rurale tipica del nostro ambiente del nostro panorama io potrei utilizzarla magari per una coppia che può venire a passare un fine settimana per delle persone che vogliono vivere la vita del parco all'interno del parco non è che se vogliono stare in un albergo e poi magari fare decine di chilometri in giorno per andare a visitare il parco l'ospitalità diffusa significa diffusa all'interno del parco e allora vedete che sarà visto come se non avessi gli occhi strammici dalla parte dice dobbiamo favorire l'ospitalità diffusa nel parco dall'altra parte diciamo guai a voi se osate di costruire e restaurare le case che avete nel parco sono due obiettivi che fanno pugni tra di loro quindi noi dobbiamo risolvere questa pesante contraddizione ci sarebbe tanto da dire ma io ho esaurito completamente la voce quasi è un po' ho esaurito la vostra tolleranza quindi io lancio soltanto un appello da Cilentano non facciamo ci fregare ancora una volta da queste cavallette che hanno distrutto il nostro territorio l'hanno associato non c'è rimasto non c'è rimasto nunca più abbiamo 200.000 laureati che hanno abbandonato il soggiorno 200.000 giovani con la laurea che hanno dovuto emigrare che non hanno trovato lavoro in questa tecnica vedete se ne è andato il meglio della popolazione 200.000 laureati abbiamo il più alto tasso di migrazione sanitaria dobbiamo andarci a fatturare fuori regione abbiamo il più alto livello di inutilizzazione dei fondi comunitari restituiamo all'Europa cospicui risorse finanziarie non riusciamo a spettare è l'unica regione italiana che non ha un piano turistico il turismo è una delle maggiori fonte di entrata avremmo dovuto avere uno dei più efficienti piani turistici rispetto a tutte le regioni italiane siamo un'unica regione che non è il turista ma si ha chiesto perché se facciamo il piano turistico e diciamo vogliamo favorire canalizzare finanziamenti su Camerotti o su Pagliur o su Agropoli che su io poi poniamo dei vingoli no? è perché se stabiliamo delle regole il piano è un regolamento queste regole ci vingolano ma se fissiamo poi dei vingoli come facciamo per fare clientela ci leghiamo le mani il piano turistico diventa un auto vingolo per chi gestisce i finanziamenti meglio non avere nessun piano meglio essere liberi da qualsiasi vingolo così decidiamo volta per volta a seconda delle convenienze a seconda delle clientele e a seconda delle corruttere a seconda delle mazzette delle coste ecco la ragione per la quale non si fa il cantonistico in questa legge quindi abbiamo veramente una situazione pessima quindi cerchiamo di dare una svolta radicale a questa politica negativa da tutti i punti di vista dimenticavo un altro dato che veramente fa rabbrividire l'ho studiato in questi giorni leggendo le analisi sociologiche perché vedete io la campagna elettorale la faccio documentatomi non andando per le piazze dicendo sciocchizze come spinelli che non santo che cosa dire dicevo vogliamoci bene abbracci baci io sono della vostra terra io sono di questi io sono di questa noi dobbiamo criticare l'esistente e costruire il futuro e questo lo si fa sulla base di dati statistici di dati economici con studio attento e scientifico delle situazioni e andando in Parlamento per fare delle buone leggi perché questi signori che competono con noi lo dico per prendere la responsabilità le leggi non le sanno scrivere non le sapranno scrivere non hanno la competenza per scrivere e quindi non sono idonei ad andare in Parlamento dobbiamo scegliere con occupatezza chi deve andare in Parlamento e ci deve andare in base a tre criteri la territorialità quindi il radicamento nel termine non appartenenza al territorio l'onestà e la competenza voi sapete che il mio competitore Spinelli con chi si accompagna durante questa campagna elettorale io mi accompagno a una ragazza vedete una giovane pulita una persona per meglio una persona che ha esperienza internazionale ed è stimata oltre che in Italia all'estero Spinelli si accompagna sapete a chi a Gigi la pulpetta voi lo sapete che chi vota all'uninominale si porta presso anche quelli che sono sul turinominale non lo sapete allora lo spiego io la legge elettorale vigente prevede che mettendo un segno sul partito bologuesia vengono votati sia i candidati al collegio uninominale sia al collegio pulinominale è un voto indisgiungibile non lo potete staccare quindi chi vota Spinelli vota Gigi la pulpetta se non sapete chi è Gigi la pulpetta vi dico io chi è l'autista l'ecca sautista di Couto che si è beccato due sendenze di condanna per associazione camofestica ecco sappiate per chi votano quelli che decideranno di votare per la destra perché bisogna almeno sapere sappiate per chi vota se poi l'altro antagonista che io ho sul fronte del PD sapete che un'avvocatessa si chiama Gallo di cognome fa parte dell'andurrage di Emma Bonino radicale perché i radicali hanno fatto il patto di coalizione con il PD e gli hanno dato una mangiata dei collegi per raccontarli e gli hanno dato il nostro collegio considerata una specie di collegio di serie di vita parte del PD quindi il collegio mio numero 11 campagna da sala Cozzirina a Battipaglia chi è chi sono i miei due oppositori i miei due rivali sono Spirelli che cammina mano nella mano Pugigina a Portetta e per il PD abbiamo sta avvocatessa che fa parte dei radicali a sto punto io vi prego di informare amici e conoscenti che sappiano per lo meno a chi danno poi giudicheranno secondo la loro coscienza e la loro volontà ma informatevi per favore informatevi e quindi io concludo pregandomi e la preghiera finale di convincere soprattutto gli indecisi e di convincere i rinunciatari perché c'è gente che non vuole andare a votare perché è una ruseata dalle porcherie che hanno combinato i partiti politici di sinistra e di destra che si sono avvicendati nella gestione del potere soprattutto nella nostra regione i guasti lì hanno commesso sia la giunta Caldovi che quella dell'Urga sono sotto gli occhi di tutti voi pensate dell'Urga che presenta il figlio come deputato l'altro figlio come assessore al comune di Sarema e che è diventata una dinastia insomma noi dobbiamo praticamente essere in mano in questa regione alla famiglia dell'Urga alla famiglia dell'Urga che poi c'è alcune valvassure sai feudatari come valvassure poi alfiere ad agropoli e poi ci sono 7-8 sindaci che vanno con una popola in mano presso a presso non sperano di scontarsi tramite il valvassure ad agropoli e il feudatario c'è da qualche lira o c'è da qualche posticino sa qualche postandino in qualche ospedale o peggio ancora qualche primario qualche primario qualche ospedale quindi recuperiamo veramente il voto di queste persone facendogli capire che è l'ultimo torno che passa l'ultima possibilità di cambiare veramente la politica e di sostituire un movimento che è un insieme di valori a partiti che hanno praticamente ridotto questa regione un insieme di maceni lo dimostra ripeto il dato statistico finale che non ammette prova contraria il 50% dei giovani disoccupati su questi risultati noi accettiamo la sfida il 50% dei giovani disoccupati l'ha provocato una loro cattiva politica questo dato socialmente allarmante è la perdita di 200.000 laureati che abbiamo perduto definitivamente su questi dati concreti noi lanciamo la sfida e la lanciamo forti dalla nostra correttezza della nostra mestare della nostra competenza e vi prego di convincere chi decisi e quelli che non potrebbero andare a votare che commetterebbero l'ultima sciocchezza dalla loro vita perché non andando a votare protestando finiscono per far vingere proprio coloro dalla cui cattiva politica si origina la loro protesta vedete che contraddittorietà che paradossi questo bisogna dire io ti capisco che tu non vuoi andare a votare io comprendo le ragioni del tuo rifiuto della tua amare del tuo disgusto ma se tu non voti per l'alternativa e li calci fuori poi le continueranno a governare e tu continuerai a essere sterilmente disgustato per tutta la vita abbi il coraggio di votare e di cacciarli via questo è quello che mi sto da dire grazie noi chiudiamo la campagna elettorale con l'ultimo comizio che faremo a chiusura al teatro la provvedenza di Vallo esattamente venerdì alle 18 e 30 vi invitiamo perché sarà una grande grandissima manifestazione è veramente un vedo di protesta che parte da tutto il cilacato venite perché è una manifestazione molto molto importante grazie 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 grazie